Una coalizione che vada oltre i due poli classici abbia come punto di riferimento la Costituzione, questa l'idea che il Movimento Azione Civile lancia in vista delle prossime elezioni regionali del 2023. A lavorare in questa direzione in Molise Nicola Lanza, dirigente regionale del Movimento fondato dall'ex magistrato Antonio Ingroia. Anche nel Molise Azione Civile si mette a disposizione per un processo nuovo che sia alternativo ai due poli, al polo di centrosinistra e centrodestra e che sia trasversale ai due poli, perché non è più il momento dei distinguo anche in questo territorio, in questa regione dove abbiamo un'emergenza lavorativa, un'emergenza occupazionale, un'emergenza costituzionale ma anche un'emergenza di libertà e di informazione sul territorio stesso. Per cui in una situazione così complicata che stiamo vivendo in questo momento è necessario che le forze sane di questa regione, che in questi anni si è abbattuto per i beni comuni, per la sanità pubblica, per l'ambiente, per il territorio, trovi la voglia, la forza, la volontà di lavorare insieme per un polo alternativo. Noi siamo a disposizione, dice, per fare da collante a cittadini e movimenti civici che convergano su questa idea. Nelle prossime settimane verranno sviluppati incontri specifici sul tema. Faremo e facciamo appello alle forze sane di questa regione e ci incontreremo con tutti per costruire questa alternativa. Quindi noi siamo a disposizione.